L'Iran ha abbattuto un drone spia statunitense e promette di rispondere alla violazione del proprio spazio aereo anche al di fuori dei confini nazionali. Lo riferiscono i media iraniani citando fonti militari di Teheran. Il velivolo senza pilota stava sorvolando l'est del paese dove si trova un impianto di arricchimento dell'uranio. Il drone di tipo Sentinel RQ 170, sofisticato gioiello tecnologico uguale a quello usato per dare la caccia a Osama Bin Laden, sarebbe rimasto quasi intatto. Ora è nelle mani delle forze di Teheran, protagonista di uno scontro con l'Occidente ancor più esacerbato dalle vicende di queste ultime settimane.